I parenti delle vittime dovranno aspettare ancora per vedere il processo sulla strage della funivia del Mottarone. Secondo il giudice le accuse sono da riformulare, tutto rinviato a settembre. Un terzo del raccolto è andato ma sono solo le prime stime. Nel casteggiano la peronospora di Laga, viti malate, vendemmia rischio, le aziende si attrezzano per chiedere ristori. C'è anche il cacere di Pavia tra i peggiori esempi a livello nazionale nel rapporto dell'associazione Antigone. Le condizioni dei reparti di isolamento e psichiatria sono definite inaccettabili. Serata di folia a Cassonnovo. Ieri all'ora di cena un uomo ha preso da girarsi completamente nudo per strada. Aveva anche delle ferite e non è chiaro come se le sia procurate. Segnalazione per i casolari abbandonati nel parco del Ticino a pochi passi dai sentieri. Pericolanti, rifugio di sbandati, pericolosi sotto ogni aspetto. Perché non abbatterli? Si aspettava per oggi la decisione su chi sarebbe dovuto andare a processo per la strage del Mottarone che fece 14 vittime. La strage della funivia tra queste 14 vittime è anche una famiglia di ricercatori israeliani che vivevano a Pavia, l'unico superstite. Era appunto uno dei loro figli. Però c'è un altro rinvio a settembre perché bisogna rivedere quali siano i capi di imputazione. Tutto rinviato per le richieste di rinvio a giudizio sulla strage del Mottarone. Bisognerà riformulare i capi di accusa nei confronti degli otto imputati, tra cui due società per l'incidente della funivia che costò la vita a 14 passeggeri nel maggio di tre anni fa. Il giudice per l'udienza preliminare di Verbagna, Rosa Maria Fornelli, non ha preso alcuna decisione su chi dovrà andare a processo. Il GUP ha chiesto invece alla Procura di rimettere mano le accuse formulate nei confronti del titolare della Ferrovia del Mottarone, la società che gestiva l'impianto, del direttore di esercizio e del capo servizio della funivia. Lo stesso vale nei confronti del vicepresidente e del responsabile dell'assistenza clienti della multinazionale altoatesina che si occupava della manutenzione dell'impianto, dove tre anni fa si è verificato l'incidente che ha causato la morte di 14 persone e lesioni gravissime a un bambino, il piccolo Eitan Biran, l'unico sopravvissuto nella strage in cui morirono i genitori il fratellino e i bisnonni materni. Il giudice ritiene che vadano escluse l'aggravante delle violazioni delle norme antinfortunistiche sul lavoro e la sussistenza dei reati dolosi, come chiedevano appunto le difese degli imputati. Per il GUP le accuse vanno contestate come disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Si dovrebbe quindi arrivare a un unico capo di imputazione. Questo potrebbe alleggerire la posizione di alcuni imputati e secondo i legali portare a prosciogliere quantomeno le due società coinvolte. Qualora i PM non dovessero accogliere le sollecitazioni del giudice, il fascicolo verrà restituito alla procura e tornerà alla fase delle indagini preliminari. Riteniamo che il giudice per l'udienza preliminare abbia solo chiesto di riorganizzare i capi di imputazione. Questo è il commento dell'avvocato dei bisnonni paterni di Eitan, che si sono costituiti parte civile. Ma la sostanza non cambia, restano omicidio plurimo, lesioni gravissime e disastro. Si tornerà in aula nel Tribunale di Verbagna il prossimo 12 settembre. Questa mattina a Roma è stato presentato il rapporto dell'Associazione Antigone, che è l'associazione che si occupa dei diritti delle persone detenute. E tra le situazioni maggiormente critiche in Italia è stato citato anche il carcere di Pavia. Vediamo perché. Le carceri scoppiano così l'Associazione Antigone nel dossier che raccoglie i numeri e le testimonianze dei primi sei mesi del 2024 nei penitenziari italiani, fra cui quello di Pavia è senza dubbio uno dei più discussi per l'elevato numero di suicidi registrati. Dalle 88 visite svolte dall'osservatorio, nel 27% dei casi, nelle celle, non sarebbero garantiti 3 metri quadrati di spazio calpestabile a testa. Non ci sarebbe poi refrigerazione e spesso nemmeno la ventilazione. Manca poi la luce naturale, molte celle e a volte persino l'acqua fanno notare ancora gli osservatori e poi invasioni di parassiti. Le carcere non sovraffollate in Italia sono solo 38 su 189, mentre il tasso ufficiale medio di sovraffollamento è del 120%, ma in 8 carceri si supera il 190%. I suicidi non danno poi nessun segno di rallentamento. Al 23 luglio si sono tolti la vita ben 58 detenuti in Italia, 9 soltanto nel mese di luglio, ma se il 2022 è stato l'anno con il maggior numero di suicidi nelle carceri, con 85 casi, il rischio è di infrangere un nuovo tragico record. Il tasso di suicidi è più alto nella popolazione carceraria straniera. Sono stranieri, infatti, quasi la metà delle persone che si sono tolte la vita nei primi mesi del 2024. Guardando all'età, poi, avevano appena 20 anni i ragazzi che si sono uccisi a Novara e a Pavia. L'ultimo a togliersi la vita proprio a Pavia è stato, nelle scorse settimane, un 19enne egiziano, la dodicesima persona suicidatasi dietro alle sbarre di una cella di Torre del Gallo dal 2021 e la terza dall'inizio di quest'anno. Il giovane si era impiccato con un lenzuolo. Un agente della polizia penitenziaria si era accorto di quanto era successo e l'aveva subito soccorso, ma per lui non c'era più nulla da fare. Il giovane, secondo indiscrezioni, aveva in precedenza dato segnale di disagio psicologico, ma non è chiaro se fosse sotto terapia. Le condizioni di vita sono drammatiche e la situazione esplosiva, ha commentato il presidente dell'Associazione Antigone, Patrizio Gonnella, aggiungendo sul pacchetto sicurezza in via di approvazione che si tratterebbe di un'inversione di tipo autoritario sul sistema penitenziario italiano che ha introdotto, per esempio, il delitto di resistenza passiva. L'incidente è questa mattina alle porte di Mortara. Un uomo di 54 anni è uscito di strada mentre percorreva la statare 211, perdendo il controllo dell'auto probabilmente a causa di un malore. Il 54enne proveniva da Cerniago ed è raggiunto ormai in prossimità di Mortara. È uscito di strada lateralmente per poi terminare la soccorsa nei pressi della clinica veterinaria. Soccorso dai medici di Areu è stato portato in codice giallo in ospedale, sul posto per i rilievi, gli agenti della polizia locale di Mortara. Da Mortara a Cassolnovo, dove ieri sera è avvenuto un episodio assai particolare. C'era un uomo nudo che girava per strada, era anche ferito. Girava nudo per strada a Cassolnovo, ferito e in stato confusionale. Grande trambusto e anche attimi di paura, nel tardo pomeriggio di lunedì intorno alle 7 di sera in via Carlo Alberto, una delle strade principali del paese di circa 7500 abitanti. Un uomo di 39 anni di origini turche è stato avvistato completamente nudo per strada. Sul corpo aveva diverse ferite. Il fatto è avvenuto in un punto molto frequentato, poco prima dell'ora di cena, richiamando in strada anche diversi curiosi. Alcuni testimoni presenti hanno raccontato anche che l'uomo, identificato in un 39enne di origini turche, si muoveva in modo strano, probabilmente in stato confusionale. Qualcuno ha quindi chiamato il numero di emergenza e allertato i soccorsi del 118. I medici di Areu sono subito intervenuti in via Carlo Alberto a Cassolnovo per prestare tutti i soccorsi di rito al 39enne. Erano presenti un'ambulanza della Croce Rossa di Vigevano e un'automedica. Sul posto anche i carabinieri della compagna di Vigevano intervenuti con due pattuglie per ricostruire quanto successo. Dopo essere stato calmato e curato sul posto, l'uomo di 39 anni è stato quindi trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano. Lì è stato sottoposto tutti gli accertamenti medici del caso per verificare le sue condizioni di salute fisiche e psicologiche, soprattutto la natura delle lesioni che ha riportato. Rimane infatti ancora da chiarire come l'uomo se si è procurato le ferite. Riceviamo e rilanciamo la segnalazione di un nostro telespettatore che riguarda un caso particolare a confine tra Pavia e Travacò, ma in realtà situazioni di questo genere ce ne sono tante. Stiamo parlando di casolari abbandonati che spesso troviamo magari vicino ai sentieri che corrono nel parco del Ticino. Sono situazioni di degrado, situazioni anche pericolose, spesso rifugio di sbandati e quindi ci si chiede se per queste costruzioni ormai pericolanti non sia il caso di fare qualche cosa per a questo punto abbatterle. Il recupero e la riqualificazione dei luoghi abbandonati non riguarda soltanto le grandi aree smesse. Tra Pavia e la provincia più in generale sono numerose le zone dimenticate e abitate dal degrado. Una segnalazione di un nostro telespettatore ci ha portato nel cuore del parco del Ticino, al confine tra il capoluogo e Travacò, Siccomario. Dopo un breve tragitto su una strada sterrata siamo arrivati davanti a due edifici completamente abbandonati da anni. Una breve ricerca su internet ci ha permesso di identificare il luogo come Cascina, Boscone e Vecchio. Si tratta di un'abitazione e di un vecchio deposito agricolo. Sconosciuta in più questa zona è invece familiare a chi viene a passeggiare in aperta campagna come il nostro telespettatore che in forma anonima ha però voluto lanciare un allarme sulla sicurezza della zona. Facendo ogni tanto le mie passeggiate da parte del parco del Ticino, tra Pavia, via Milazzo e Travacò, abbiamo visto questi casolari qua che secondo me sono molto pericolosi. Poi si vede che ci sono segni di passaggio, quindi voglio dire che qualcuno o qualche malintenzionato va, poi con i fatti di cronaca che si vedono in questi periodi, io direi che molto pericolosi soprattutto per le donne e quindi direi di intervenire, soprattutto di abbatterli o metterli in sicurezza più che altro. Addentrandoci non senza difficoltà nella fitta vegetazione siamo riusciti ad avvicinarci ai due edifici. Il passaggio di persone evidente, come testimoniato dai rifiuti e dai graffiti sui muri. Le due strutture hanno però evidenti problemi di stabilità e sarebbe necessario intervenire. Un luogo di degrado e di pericolo per chi frequenta la zona. Sembra che c'è addirittura che si va anche a dormire, quindi secondo me sono cose da eliminare. Adesso non so chi tocca, ma che qualcuno faccia, che non ci sia la solita scusa, non si sa chi tocca. Sì, 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 tanti anni, quindi c'è un po' di incuria, mancate che segnalazione dei cittadini che invito sempre comunque a segnalare le cose pericolanti, magari o attraverso voi o attraverso altri mezzi di informazione, comunque far sapere a chi di dovere intervenire. Dovrebbe essere chi di dovere anche controllare, visto che comunque è un parco del Ticino, dovrebbe ogni tanto passare, controllare e verificare le strutture che ci sono e essendo pericolanti intervenire il più presto possibile. Ma non si tratta delle uniche strutture pericolanti in questa porzione di parco del Ticino, frequentata da chi cerca un contatto con la natura per passeggiare o praticare dello sport. A poche centinaia di metri, alcuni mesi fa, avevamo sottolineato i problemi di un ponte abbandonato e pericolante in fondo via Milazzo, ma nessuno ha raccolto la segnalazione dei cittadini. Puoi parlare anche di quello, che abbiamo fatto una segnalazione mesi fa di un ponte pericolante e ancora lì perché, come ci dicevo prima, non si sa chi deve intervenire, che si decidano e che intervengano. Non posso andare io a distruggere e buttare giù un ponte perché se no mi arrestano. Quindi chi di dovere, che sia il governo, che sia la regione, che sia la provincia, il parco, il comune o chissà chi, la situazione è questa. Intervenite per favore. I problemi dell'agricoltura, in particolare della viticoltura. Quest'anno molte viti sono state aggredite dalla Peronospora, dato che non si è potuto fare a causa delle continue piogge. È tarda primavera, inizio estate, che non hanno permesso appunto i trattamenti di prevenzione. Si parla nella zona di casteggio di un 35% del raccolto che sarebbe già andato perso. L'estate è ormai entrata nel vivo. Il ricordo della fresca e piovosissima primavera 2024 sbiadisce ogni giorno che passa, ma non per i viticoltori dell'oltrepo, che proprio in questi giorni contano, o meglio stimano, i danni che subiranno i raccolti con la prossima vendemia. A causa della Peronospora, una malattia della vite esplosa fra fine maggio e i primi di giugno, proprio a causa dell'elevatissimo tasso di umidità e dell'impossibilità di intervenire nelle vigne per i trattamenti fitosanitari. Ora è corsa contro il tempo per presentare in regione il maggior numero possibile di richieste di risarcimento, che allo Stato attuale sono solo stime di danno, in modo da ottenere più fondi dallo Stato, che nelle prossime settimane, proprio in base a queste stime, dovrà ripartire fra le regioni italiane i 47 milioni stanziati con il decreto agricoltura appena pubblicato in gazzetta ufficiale. Per questo, spiega l'assessore all'agricoltura di Casteggio Milena Guerci, viticoltrice essa stessa, è importantissimo che tutte le aziende dell'Oltrepo invino le schede attraverso le associazioni di categoria, gli uffici di consulenza e i comuni che si sono attivati per raccoglierle. Faccio proprio l'appello ai miei colleghi, perché io sono lì di agricoltore lì a mia volta, per dire di andare a fare, a compilare, a far compilare le schede di segnalazione di danni dalle loro associazioni di categoria o dai loro studi di consulenza, perché il fatto di raccogliere il maggior numero di danni possibili, il maggior numero di schede possibili, dà la possibilità forse agli agricoltori stessi di avere un po' di ristori per quello che non porteranno a casa per la diminuzione di quella che è la produzione dovuta alla peronospora. Anche sopra ai siti di molti lì di comuni, compreso lì il nostro, lì di Casteggio, è scaricabile la scheda per fare quella che è la segnalazione dei danni. È proprio in prima pagina, è nell'home page lì del Comune. I danni alla vendemia, secondo quanto emerso finora, nel Casteggiano si attesterebbero in media attorno al 35%, ma sarà solo il raccolto, a dare un dato preciso sulla portata della calamità. Sulle uve rosse direi che la percentuale potrebbe addirittura essere dal 35% in su. Per le uve bianche forse ci si ferma al 30%, però questo ce lo dice solo la vendemia. Una politica a Mortara, situazione ancora fluida in maggioranza. Il consigliere Usardi ha annunciato l'ingresso in Lombardia Ideale e non le ha mandate a dire ai dirigenti del suo ormai ex partito Fratelli d'Italia. Nuovo rimescolamento delle carte in Consiglio Comunale a Mortara. Il consigliere di maggioranza Andrea Usardi ha lasciato il gruppo misto in cui era entrato da neanche due settimane per confluire in Lombardia Ideale, il movimento civico del governatore Lombardo Attilio Fontana. La stessa formazione che aveva scelto il candidato sindaco Alessandro Cantoni a Pavia e che ora conta su due esponenti politici lomellini. Insieme a Usardi c'è anche il sindaco di Velezzo Luigi Pasqualetto, nominato referente territoriale per tutta la Lomellina. Una mossa a quella di Usardi che non muterà il suo sostegno alla maggioranza di Fratelli d'Italia, in cui era stato votato alle elezioni due anni fa e al sindaco di Mortara Ettore Gerosa, ma che inevitabilmente cambia il panorama politico già alquanto frezzante nel Consiglio Comunale, con una maggioranza frammentata e sottoposta a tensioni negli ultimi mesi dopo la diaspora nella civica alleata Viviamo Mortara, che ha portato poi alla nascita del gruppo misto. Il diretto interessato, ai nostri microfoni, non nasconde che la sua scelta di abbandonare Fratelli d'Italia e poi entrare in Lombardia Ideale sia stata dettata da una sua delusione nei confronti del partito di Giorgia Meloni sul territorio. Quello che posso lamentare è una poca presenza sul territorio di chi ricopre ruoli in provincia e in regione, quindi io mi sono personalmente sentito un po' abbandonato. Il passaggio al gruppo misto era stato dettato da questo sentimento, anche se già stavo maturando l'idea di avvicinarmi un gruppo che fosse comunque più strutturato, quindi la mia uscita non sia presa per risentimenti vari, anzi mi auspico che sia un rafforzamento di questo gruppo misto e mi auspico che un domani anche loro magari possano intraprendere questa scelta. Usardi avrà anche il compito di formare un circolo di Lombardia Ideale a Mortara, ribattezzato Mortara Ideale. Tutto questo a poco meno di una settimana dal Consiglio Comunale di Mortara, previsto per il 29 luglio, in cui si voterà il nuovo piano di governo del territorio, su cui la maggioranza di Ettore Gerosa si gioca il suo futuro politico. Lombardia Ideale nel frattempo va avanti nella sua azione politica, vicina alle esigenze delle persone e del territorio, come ad esempio il caso di Velezzo Lomellina, piccolissimo centro di neanche 90 abitanti. Il Movimento già nasce come valorizzazione del territorio, questa è una cosa importante soprattutto per un piccolo comune come il mio e quindi valorizzare il territorio dove noi siamo per me è un valore aggiunto e un valore aggiunto per una maggiore sensibilizzazione da parte di noi amministratori questo nostro territorio. A Pavia si è deciso di ricostituire la consulta giovani, c'è già il primo argomento all'ordine del giorno, cioè la movida. Con 31 voti favorevoli su 31 in Consiglio Comunale la scorsa settimana è stata approvata la mozione per l'istituzione della consulta dei giovani. Il documento è stato proposto da Matteo Chiù, vicepresidente del Consiglio Comunale, eletto con Fratelli d'Italia ed approvato dopo gli emendamenti promossi dagli altri rappresentanti under 30 eletti al mezza barba. La consulta vuole essere uno strumento per favorire la partecipazione da parte dei giovani e i processi decisionali della città. Un luogo di aggregazione e di confronto con il comune per dare voce ai tantissimi giovani che abitano a Pavia. Non solo gli oltre 20.000 studenti universitari, ma anche i liceali e tutti i ragazzi e le ragazze attivi attraverso le associazioni presenti nel capoluogo. L'iniziativa è non a caso bipartisan e promossa dall'opposizione di centrodestra con il placet della maggioranza. Sono tanti i temi da affrontare che riguardano i giovani, ha spiegato Chiù, a cominciare dalla proposta della Giunta di vietare la somministrazione di alcolici dopo un certo orario. Sta sorgendo una questione portata avanti dall'assessore Faldini, che a quanto letto anche da alcune testate quotidiane e locali, vorrebbe istituire un orario di chiusura per la vendita di alcolici e per la musica. Io sono convinto che sia fondamentale chiedere anche a questa consulta che cosa ne pensi. Vuol dire che sostanzialmente la maggior parte delle attività come bar e ristoranti, non lo so di qualsiasi genere che si trovi a Pavia, rischia una grossa perdita a livello economico. I prossimi step prevedono l'adesione al progetto da parte delle associazioni entro il mese di settembre, in modo tale da poter partire con gli incontri nel giro di qualche settimana. La consulta è già attiva in numerosi comuni italiani, mentre a Pavia era finita nel dimenticatoio da alcuni anni, nonostante un regolamento sul tema fosse già stato approvato nel lontano 2018. I rifiuti a Voghera, mentre aumentano le multe degli ausiliari ambientali, ci sono ancora tantissimi utenti che devono ancora ritirare le smartcard per l'accesso ai cassonetti. Appostamenti, fototrappole, verifiche e segnalazioni grazie a una serie di controlli nel giro di pochi mesi. Gli ispettori ambientali ingaggiati da SM Voghera l'autunno scorso avrebbero sanzionato 50 trasgressori. I dati sono stati diffusi dalla municipalizzata, che poi ha fatto notare che, a fronte di 50 sanzioni, molti di più sarebbero state le ammunizioni verbali, ovvero i consigli, per così dire, a conferire correttamente i rifiuti, non abbandonandoli fuori dai cassonetti, per strada o peggio nelle campagne. Il contatto diretto con il Comune e con il Comando di Polizia Locale è quotidiano e improntato alla reciproca collaborazione, ha spiegato in una nota la municipalizzata. Per questo, anche attraverso l'operato degli ispettori ambientali, stiamo cercando di combattere questo malcostume diffuso, causato principalmente dalla mancanza di molti cittadini non solo di senso civico, ma anche della card per aprire i cassonetti, conclude la nota, strumento necessario per svolgere una corretta differenziazione dei rifiuti. Il problema delle card mai ritirate, purtroppo però, non è nuovo. Secondo le ultime stime, confermate anche dall'opposizione in Consiglio Comunale, oltre 1.500 tessere magnetiche per il conferimento nei cassonetti non sarebbero mai state ritirate da altrettanti cittadini o nuclei familiari vogheresi, il che comporterebbe il deposito di decine di tonnellate di rifiuti all'esterno degli stessi cassonetti per l'indifferenziato, senza che all'orizzonte si intraveda una soluzione percorribile. Torniamo a Pavia, è un cantiere che si trascina ormai da parecchi anni, potrebbe ripartire dopo l'estate, è quello dell'ex caserma Calchi. Un'opera di riqualificazione attesa da oltre 20 anni, dopo l'estate dovrebbero essere finalmente appaltati i lavori per il recupero dell'ex monastero di via Calchi a Pavia, uno spazio abbandonato che diventerà la nuova casa della biblioteca civica Bonetta. Per il via libera definitivo si attende ancora il semaforo verde da parte della soprintendenza. Una prima fetta di lavori che avrà un valore stimato di poco inferiore ai 3 milioni di euro. È una storia tortuosa quella dell'ex monastero ed ex caserma Calchi che si trascina da lontano 1996. Gli interventi di recupero sono stati interrotti durante il mese di giugno del 2020 a causa di un braccio di ferro, sorto tra l'amministrazione comunale guidata dall'ex sindaco Fabrizio Fracassi e la società che doveva occuparsi dei lavori. Il comune di Pavia aveva infatti deciso di revocare l'incarico accusando la società di aver chiesto più soldi di quanto previsto inizialmente. I classici problemi burocratici che spesso rallentano o addirittura paralizzano diverse opere pubbliche. Superate queste problematiche il cantiere potrà ripartire nel mese di settembre con il via libera da parte della soprintendenza. Il primo lotto da 2 milioni e 800 mila euro servirà per mettere a nuovo tutta l'ala sud e una fetta di quella ovest della struttura. Nelle intenzioni delle amministrazioni che si sono alternate alla guida di Pavia vi è la creazione di spazi per la biblioteca civica Bonetta ma non solo. L'obiettivo è quello di creare anche un polo culturale e locali rinnovati da dedicare ai settori di commerciale e terziario. Il recupero della chiesa di Santa Maria delle Grazie invece collocata in via Langosco garantirà la nascita di un nuovo auditorium e degli spazi espositivi. Il recupero dell'ex monastero di Santa Clara a Pavia è costato fino adesso in tutto 10 milioni di euro, risorse economiche investite da lontano 1996 quando è iniziato ufficialmente il percorso di recupero dell'antica struttura a due passi dal centro storico del capoluogo. Si conclude qui questa edizione, vi lascio all'arresto della programmazione di Milano Pavia TV. Arrivederci. 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 Arrivederci.